Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Conte, insomma, sta finendo, come si dice a Napoli, con gli stracci? Questo mi dispiace. Io naturalmente quando ho fatto questo annuncio, che ho fatto perché ci sono dei grandi problemi, dei grandi disagi, anche se non capisco con quale criterio si fa finta di nulla e si cerca di mettere la polvere sotto il tappeto, se io lascio il Movimento, che come tu sai ho sempre difeso, ho sempre lottato per il Movimento, sbattendomi molto e subendo delle cose molto brutte in questi anni da alcuni esponenti che fanno finta di essere democratici, di aderire ai valori del Movimento e in realtà pensano loro sì alle loro poltrone. Ho però correttamente ricordato che stimo Giuseppe Conte per come è stato Presidente del Consiglio, per come ci è rappresentato in Europa, perché l'ho detto ieri, lo dico oggi, lo dirò domani, quel lavoro lo ritengo eccellente. Mi dispiace che Giuseppe Conte, con la sua potenza mediatica, con tanti dipendenti pagati con i soldi pubblici che rilanciano le cose che lui dice, abbia detto che io gli avrei chiesto poltrone. Questo è falso, questo lo ha inventato ed è diffamatorio, è un falso diffamatorio. Ma chi sono i dipendenti pubblici che rilanciano le cose che lui dice? E quindi ne risponderà, anche perché vorrei sapere una cosa, perché i nostri, quelli sai della comunicazione, del gruppo del Movimento, sono pagati con soldi pubblici, lo sappiamo, questo, però sono stati assunti da qualche parlamentare, quindi magari parlano bene di un parlamentare e male di un altro. C'è anche questa triste cosa ormai da anni nel Movimento e ci sono quelli che hanno cercato in questi anni di limitare la mia presenza. O lei, pensano che il Movimento sta facendo bene, non è una persona come lei. Sì, no, adesso ci mancherebbe, adesso sì, io sono uscito dal Movimento quindi fanno benissimo, però ripeto, quali poltroni avrei dovuto chiedere a Conte? Non ho mai chiesto nessuna poltrona perché la mia poltrona l'ho ottenuta per 120 mila voti di preferenza. E' imbarazzante che lui abbia detto questa bugia. Allora, prima di tutto non si diventa presidente della regione Sicilia chiedendolo a Conte. Io ho annunciato nel tuo programma, anche se c'era mangiato quel giorno, che speravo si facessero le primarie interne, speravo che si facessero le primarie interne e che mi sarei candidato alle primarie interne. Lo avevano già detto altri due esponenti del Movimento, eppure solo per me allora è uscito un comunicato stampa dicendo che è un'iniziativa personale, lo era, lo era anche la loro. C'è una cosa ad personam per limitare chi ha molto consenso, capisci quello che voglio dire? Io ho suggerito a Conte invece, questa è la verità, di far votare ai nostri iscritti tutti questi ruoli che lui ha inventato in questo nuovo statuto, i vicepresidenti, i comitati, i referenti locali. Non li vuoi fare votare tutti, fanno votare alla metà, un terzo, un quarto, qualcuno, perché noi siamo per la democrazia diretta. Se il nostro Presidente va in giro a dire siamo l'unica forza che fa scegliere i suoi iscritti, siamo per la democrazia diretta, e poi se li ha nominati tutti lui, si è fatto un cerchio che più che magico direi tragico, ma comunque li ha nominati tutti lui, dov'è la democrazia diretta? Dov'è il pluralismo? Se tu metti tutti persone tue e poi mandi intervisione solo persone tue, allora è il partito tuo, è un partito personale, autocratico, non è più un partito democratico. Un'altra volta ha detto che è contro le correnti, ha detto che non ha 100 correnti. Diciamo che lui al Pt ne ha viste di cotte e di grude, però quel movimento comincia a essere... Minniti è una vecchia volpe della politica, ha attraversato diversi partiti, ricordo che nel 2018 all'uninominale addirittura venne sconfitto da un candidato che era ormai lì ma era stato già espulso dal movimento, perché nel 2018 il movimento ha raccolto un'enorme quantità di voti di proteste, tanto che anche quelli che avevamo espulso per la cosa dei finti bonifici hanno vinto i loro uninominali, perché era una forza che aveva fatto delle promesse. Se non abbiamo mantenuto queste promesse, ora siamo al 12%, un motivo ci sarà. Uno di questi motivi è aver abbandonato la democrazia diretta. Tutte quelle nomine Conte le ha fatte rispettando delle correnti con il manuale Cencelli, e poi non può dire siamo contro il correntismo, non accetto le correnti. Quindi giochiamo a carte scoperte ma dicendoci la verità. Se tu andassi a parlare con una telecamera nascosta, come facevo io quando facevo le Iene, al Senato, alla Camera, con molti nostri parlamentari, ascolteresti delle cose irripetibili di enorme disagio rispetto a quello che sta succedendo. Io ho avuto il coraggio di dirlo anche in alcune interviste, per questo sono stato bersagliato. Allora se non si può più parlare, se non c'è dialogo, se non c'è pluralismo, se non esiste libertà di pensiero e di parola, e se si nasconde la verità, quando la verità, quindi chi lo sa, è sempre rivoluzionaria. Dino, domanda seca, così ci arriviamo al pensiero. Tanto ci conosciamo da una vita io e Dino, da quando lì facevo un altro mestiere. Il tuo nuovo movimento che fonderai serve a candidarti con il tuo movimento alle elezioni regionali in Sicilia? Ma guarda, io mi potrei candidare anche adesso alle elezioni regionali in Sicilia con il centro-sinistra, perché è stata fatta una incredibile regola che veramente farebbe ridere i polli per organizzare le primarie del centro-sinistra ed è stata fatta per permettere a quelli del mio movimento di farsi il terzo mandato. Si potranno fare il terzo mandato in una lista parallela a quella del movimento, che è obbligatoria per presentare la candidatura del presidente del movimento. Essendo obbligatore diceva, mettiamoci quelli che hanno fatto già due mandati, così la riempiamo quella lista. È un modo penoso per aggirare la regola dei due mandati, che è una nostra norma fondante sulla quale Conte non è mai stato chiaro. Facciamo politica di professione o la facciamo per due mandati per servizio, come avevamo detto? Chi è incoerente? Chi vuole fare il terzo mandato o chi invece dice la verità? Facciamo una cosa. No, sarebbero delle risposte, sarebbe bello sentire le risposte. Allora, Gianrutto, ci vediamo presto in studio. Ti lascio andare perché voglio tornare dalla guerriglia dentro i 5 stelle alla guerra.